Ciao amici e grazie innanzitutto di essere qua e aver dato attenzione al mio allevamento che si chiama Juxtafontem, dopo dirò la motivazione di questo nome, ha una storia e che praticamente riassume una passione che è nata ormai da tanti anni. La passione è per il Maine Coon, questa ragazza di gatto che stiamo vedendo, una razza che secondo me ha un fascino incredibile perché racchiude elementi selvatici, lo sguardo, l'aspetto all'ince, il portamento stesso dell'animale, ad un carattere che è estremamente invece docile, sono gatti che si adattano benissimo alla vita coi bambini, vengono utilizzati anche per la pet therapy e questo proprio perché sta a indicare la grande adattabilità che questo animale ha nei confronti dell'essere umano e anche di altri animali, loro infatti vivono con un cane Fabio che ora non c'è ma poi magari arriva. È una razza che è stata riconosciuta intorno alla metà degli anni Ottanta e dietro questa razza ci sono moltissime leggende che tentano di catalogarne il momento esatto in cui si è formata e le motivazioni anche un po' fantastiche della sua appunto nascita. Qualcuno dice che sono gatti che aveva Maria Antonietta, sei coppie fatti salvare durante la rivoluzione francese, altri dicono invece che questo gatto è un gatto selvatico che si è accoppiato con il procione, un animale che sta in America, ma quest'ultima è veramente una ipotesi alquanto priva di fondamento perché sono due razze completamente diverse e quindi non porterebbero a nessun tipo di prole. però questa coda molto voluminosa tipica del procione hanno fatto sì da accumulare questo gatto appunto a questo animale. Cun deriva proprio da quello, dal procione e Maine invece dal luogo di origine della razza che è il Maine, uno stato che sta vicino al Canada. in realtà la nascita di questa razza è dovuta al fatto che durante le esportazioni e i rapporti con il nuovo continente i marinai mettevano sulle navi dei gatti dei norvegesi e li portavano con sé per tenere sotto controllo il proliferare dei topi sulle nave stesse. Una volta poi che approdavano appunto nelle coste di questi nuovi ambienti, questi gatti si sono accoppiati con i gatti propri del posto che sono molto grandi, con i gatti selvatici propri del posto, molto grandi e da qua è nato il Maine Coon. Questa è la teoria più attendibile. Poi la selezione ha portato appunto al miglioramento della razza e soprattutto a fissare determinati caratteristiche che sono oggi particolarmente appropriate. Il Maine Coon negli ultimi anni ha subito, a meglio, ha goduto di un boom incredibile, un gatto molto amato dal pubblico e che sta conoscendo veramente un momento di massima espansione e di massima selezione. Vediamo allora quali sono le caratteristiche tipiche di questa razza, quelle su cui poi gli allevatori si sono particolarmente concentrati nel lavoro di selezione. Innanzitutto vediamo salta immediatamente all'occhio il muso che deve essere largo, squadrato e deve essere e deve presentare più possibile un allineamento tra il naso qua sopra e il mento. Lo sguardo, ecco allora lo sguardo è una cosa che a me preme particolarmente nella selezione. A me piace quando lo sguardo è particolarmente aggressivo perché mi piace il contrasto tra aggressività e dolcezza dell'animale. Le orecchie che devono essere ben posizionate alte, possibilmente non aperte, ora le tiene così perché è un pochino fuori agio, non a suo agio e la forma del corpo che deve essere rettangolare. Molto apprezzato è lo stop, ossia questo angolo che si viene a formare tra la fronte e il naso. Più è tendente al 90 gradi e più è apprezzato. Lo standard direbbe che dovrebbe essere accennato, però in realtà se lo si vuole bello bello marcato. Allora è una cosa molto importante che si sta un po' perdendo nella selezione dei Mencun, non è la testa che non deve essere piatta ma deve essere bombata. La bombatura della testa di Sidone, lei è Sidone, mi porta allo sguardo così particolarmente feroce. Il corpo è rettangolare, scusatemi, la coda deve arrivare almeno alle spalle. Queste sono le caratteristiche principali della razza. Questi gatti sono tutti registrati regolarmente, fanno parte di un allevamento riconosciuto dall'ANFI. L'ANFI è l'organo ufficiale che riconosce e regola gli allevamenti di tutti, in Italia, dei gatti di tutte le razze, del gatto di razza ovviamente. In Italia abbiamo l'ANFI che fa poi riferimento alla FIF e che è invece quella che regola il tutto in tutto il resto del mondo. Ci sono delle regole ben precise e sono regole che servono a tutelare l'allevamento, il gatto in primis e chi lo prende e chi se ne prenderà cura, quindi i clienti, chi lo compra. Innanzitutto, nella riproduzione del Maine Coon non è che uno può prendere il gatto, mettere maschio e femmina e farlo riprodurre a volontà, qualcuno lo fa. Nel nostro caso è possibile fare 3 cucciolate per ogni femmina nell'arco di due anni. In questo modo la femmina non rimane troppo tempo ferma, sarebbe dannoso perché il bombardamento ormonale porterebbe dei problemi a livello degli organi riproduttivi, dell'ultero, delle ovaie, eccetera, ma non va nemmeno sotto stress perché se l'allevatore riesce in qualche modo a distribuire queste cucciolate in modo abbastanza omogeneo, la femmina ha tutto il tempo di riposarsi e di recuperare. E poi ci sono gatti riregistrati e di conseguenza hanno un pitigree, qua vediamo l'indole del Maine Coon. Il pitigree, quindi un documento che attesta appunto tutto l'albero genealogico del gatto. Allora, sul pitigree vorrei spendere qualche parola, è fondamentale. Allora, molti annunci che troviamo su internet propongono gatti, non solo in Maine Coon, ma anche altre razze importanti, famose, a prezzi molto ridotti in cambio del pitigree, ossia io all'allevatore ti dico, non ti do il pitigree e ti faccio uno sconto di 300 o 400 Euro. Per capire, il pitigree costa all'allevatore 13 Euro. Allora, se l'allevatore propone all'acquirente uno sconto di 300 Euro per non avere il pitigree, qualcosa torna, qualcosa puzza. E questo perché? Perché il pitigree non è un semplice foglio di carta che ti dà la possibilità di partecipare alle mostre, oppure di avere la vanità di dire al gatto di razza, ma è un documento che tutela il gatto. Se il gatto viene ad ammalarsi di qualche malattia genetica tipica, e purtroppo ci sono, è un altro lavoro che l'allevatore fa, è cercare di eliminare queste malattie, l'acquirente ha il diritto di protestare, di andare a cercare l'allevatore e dire oh, ma che succede? E l'allevatore non potrà restituire l'affetto, perché purtroppo, però ci sono delle regole ben precise che è tenuto a rispettare. Quindi, quando qualcuno vi propone un animale di razza, un cane, un gatto, senza pitigree, cercate altre cose, non è un allevamento serio. Malattie genetiche, quali sono? Ci sono, ci sono e sono, quelle del Maine Coon sono l'HCM, che è una malattia che praticamente colpisce il cuore e prevede un inspessimento degli atri, il cuore a un certo punto non riesce più a pulsare e il gatto muore, spesso e volentieri muore in poco tempo. E poi il rene policistico, ossia il rene che presenza una serie di malformazioni fino ad arrivare alla totale inutilità dell'organo stesso e anche lì il gatto purtroppo muore. Il lavoro di selezione non deve essere mirato solo alla bellezza del gatto, va bene, quella è importante, ma soprattutto a eliminare queste tare genetiche, cioè non appena si presenta bisogna cercare di capire da che parte arriva delle due linee, con ricerche, io per fare un accoppiamento a volte ci passo anche le serate su internet a fare ricerche, sui nonni, sui bisnonni, etc. E in quel caso se necessario, anche se può costare fatica e soprattutto magari è un gatto bellissimo, devi arrivare a chiudere la linea, a me è successo, lo dico senza problemi, qualche anno fa ho chiuso una linea proprio perché si è presentata questa malattia e proprio in questi ultimi giorni è successa una polemica dietro a questa linea perché una levatrice che ha gatti derivanti a quella linea ha continuato a riprodurre nonostante il pericolo e quindi insomma questa cosa non è seria, mi sono un po' arrabbiato, è successa un po' una polemica a livello dei social, eccetera, eccetera. Io l'ho fatto perché voglio che la gente sappia, è fondamentale. Non è che un gatto che ha presentato nelle cucciolate eppure i cuccioli sopravvissuti sicuramente svilupperanno la malattia, non si può dire, ma nel dubbio sarebbe meglio bloccare tutto, secondo me questa è la serietà dell'allevamento. Quindi la selezione che è fondamentale, selezione che si avvale anche nella ricerca sempre di nuovi esemplari che vadano a migliorare o a portare le caratteristiche che magari nel nostro allevamento mancano e questo ti porta ad avere rapporti con allevatori da tutto il mondo che su basi di stima reciproca, eccetera, eccetera, ci si può scambiare o acquistare gatti. Qualcuno viene da lontano, per esempio lei, Beauty, arriva dalla Russia, Guadalupe che ora non vedo, arriva dalla Danimarca e anche alcuni gatti, anzi alcuni dei gatti, molti dico la verità, che nascono in questo allevamento generalmente vanno all'estero. Ovviamente in allevamenti super fidati, è difficile che, anzi è impossibile che io dia un gatto di allevamento a persone che non conosco o che comunque non ha un'esperienza già di anni nell'allevare questa razza. Io personalmente sono dieci anni che allevo, sono dieci anni, abbiamo cominciato quasi in punta di piedi, ho avuto una passione per questa razza da tantissimi anni e mi ricordo che smettendo di fumare, con un anno di sigarette mi sono risparmiato e mi sono comprato il primo gatto. Il nome dell'allevamento che è Iucstafontem deriva perché ho preso il mio primo gatto da un allevamento di monache carmelitane, la tribù del deserto, che secondo me sono state quelle che hanno rivoluzionato completamente in Italia e non solo lo standard e l'allevamento del Maine Coon. Questa cosa ha portato molti vantaggi a molti allevatori che hanno usufruito del loro consiglio, sono una loro creatura che i consigli che loro mi hanno dato mi sono serviti tutt'oggi per migliorarmi sempre di più e invece qualche lavatore ha dato fastidio e hanno fatto in modo di affondarle. L'allevamento non c'è più, però io lo porto avanti le loro linee con tenacia. Iucstafontem mancherebbe, partendo comunque da un lavoro che è stato eccellente da parte loro. Siccome l'allevamento originario era questo allevamento di monache carmelitane, che sta quindi vicino, perché sta a Sorano, è la Iucstafonte perché vuol dire vicino alla fonte, cioè vicino alla gente. Loro sono state la fonte e noi quello che dalla fonte è derivato. Sono andato avanti, la passione da piccola si è autoalimentata, è diventata sempre più grande e adesso l'allevamento conta di esemplari che sono molto vicini alla mia idea di Maine Coon, anche se non è mai finito, quindi bisogna ancora continuare e migliorarsi. Sotto tutti i punti di vista non si è mai arrivati. Allora, come si può vedere il nostro allevamento avviene in casa, quindi i gatti vivono con noi, non stanno in box, non stanno in recinti, non stanno in stanze predefinite, no, vivono con noi. Naturalmente sono separati i maschi dalle femmine. Le femmine vivono proprio qua a casa, gomito a gomito con noi, i maschi vivono di sopra, c'è una mansarda che è grande quanto l'appartamento e lì stanno loro. Adesso semmai poi ne vado a prendere uno così. Vediamo anche la differenza di dimensioni, perché i maschi sono parecchio grossi. E poi via via c'è il momento più bello che è quello della nascita, della cucciolata. In questo momento tra l'altro ho i cuccioli di una settimana, ora poi li vediamo. E devo dire che rimane, nonostante gli anni, uno dei momenti più belli. Proprio assistere alla nascita, aiutarli magari a tagliare il cordone, a liberarli dalla placenta. E' bellissimo, cioè questo è quello che poi va ad incrementare la passione. E chi vive con un animale lo può capire, perché danno veramente dei momenti, per me, di pace. Perché anche semplicemente vederli giocare, vederli come vivono, vederli vivere, per me è motivo veramente di distensione, di relax e di pace. Quindi io non farò altro che ringraziare di aver avuto la possibilità di vivere accanto a questa bellissima razza e addirittura di dare il mio contributo modesto per mandarla avanti. Allora io procederei alla presentazione di uno dei maschi, che in questo momento ho su, e poi vediamo anche i piccolini, perché hanno appena aperto gli occhi, quindi vale la pena. Abbiamo visto le femmine e ora qua vediamo uno dei maschi che ho. Come vedete sono animali di una certa mole. Lui per esempio è, siamo intorno ai 10 kg, adesso in questo momento c'ha ancora il pelo, il tipico pelo estivo, però ora via via metterà quello invernale e allora l'aspetto è quello proprio di una lince. Anche qua vediamo un aspetto molto selvaggio, ma poi in realtà sono animali veramente dolcissimi, proprio tranquillissimi. E qua c'è un altro maschietto, Zaccheo, a me lui piace tanto perché ha lo sguardo che piace a me. Tanto arrabbiato, ma poi tanto non ama essere ripreso e coccolato quando ci sono persone che non conosce. E poi c'è il divertimento di cercare i nomi. Nomi che non possono essere dati a caso, ma devono seguire delle regole ben precise. Per esempio ogni anno ha una lettera ben determinata, stabilita dall'Anfi, quest'anno la lettera è la C. Quindi diventa poi un problema perché poi a un certo punto i nomi sono finiti e quindi si danno dei nomi che sono veramente allucinanti. Ora siamo alla fine dell'anno e quindi i nomi sono quasi esauriti. C'è uno, ora ti farò vedere i cuccioli, hanno una settimana, c'è uno che si chiama Carlo, però non l'ho scelto io. L'hanno scelto la nuova famiglia. C'è una Camilla, insomma c'è una Crilu in giro qua per casa che si vedeva prima. Poi da gennaio ci saranno nomi che inizieranno per di. Quindi ogni anno c'è e poi a seguito del nome o davanti al nome a seconda di come è stato registrato l'allevamento c'è il nome dell'allevamento. Quindi tipo Crilu, Yuxtafonte. E allora vediamone questi cuccioli. Qua ne abbiamo due dell'ultima cucciolata. Sono nati da pochissimo, hanno dieci giorni. Hanno appena aperto gli occhi e i loro nomi appunto iniziano con la C. Qua abbiamo Carlo, gliel'ha dato la sua mamma Monica il nome. Qua abbiamo Camilla che forse stiamo pensando che rimarrà con noi. perché la sua mamma è l'ultima cucciolata che fa e di conseguenza questo potrebbe essere un regalo suo. Allora qua noi vediamo già, cosa che mi piace tantissimo, vediamo già lo sguardo. A volte si vede già da piccoli. Lo sguardo è già corruciato. E ancora le caratteristiche non si vedono perché sono tanto piccoli quindi sarebbe azzardato. però profilo eccetera sono promettenti, teniamoli d'occhio, ma questa probabilmente rimarrà. Ecco questo diciamo che è il momento clou della vita dell'allevamento. la nascita dei cuccioli come detto prima è sempre un'emozione grandissima, è sempre una festa. C'è un'emozione grandissima, è sempre un'emozione grandissima. C'è un'emozione grandissima, è sempre un'emozione grandissima. C'è un'emozione grandissima, è sempre un'emozione grandissima. C'è un'emozione grandissima.